Io sono Chiara, in arte Chia, ho avuto sempre la passione per la musica, però ho avuto il coraggio di tentare soltanto quest'ultimo anno e mezzo. Perché hai scelto il titolo dalle 100 anni? Allora, ho scelto questo titolo perché racchiude in sé tutto il significato, il messaggio del testo, della canzone. Cioè non si può avere niente dall'oggi al domani, bisogna avere determinazione, pazienza e soprattutto, come detto prima, coraggio di provare. I segreti che deve avere una ragazza per farsi spazio nel mondo della musica? Non li so perché non sono entrata nel mondo della musica, però posso dire quello che ho fatto io. Quindi scrivere una canzone prima di tutto, puoi credere in questa canzone e fare un video, pubblicarlo, cioè esporsi e avere il coraggio di provare. E soprattutto fregarsene di quello che pensa la gente. Come nasce il tuo metodo di scrittura e di lavorazione? Ascolto una base, questa base mi suggerisce qualcosa e poi mi viene spontaneo scriverci sopra. Naturalmente poi dipende anche da quello che sento in quel periodo o in quel momento in cui sto scrivendo. Cantaci una parte del tuo singolo. Detto che abbiamo parlato del titolo, canterò il ritornello. Quindi, l'oggi e il domani, se non ribocchi le maniche, speri nella pioggia. Chiamala, siamo indiani. Dal cielo non cade il successo, dall'oggi al domani. Oh, dal cielo non cade il successo, dall'oggi al domani. Oh, ho bisogno di altri, si sogna di più, bisogno di altri, si voglia di più. Stop! Andate a guardare quella su YouTube, non vi voglio spoilerare altro perché ho spoilerato abbastanza direi. La prossima domanda è progetti futuri. Sicuramente altre canzoni, sicuramente un altro singolo che non perderà ad uscire. E poi progetti futuri più futuri, magari chi lo sa, almeno fare un album. Speriamo. Cosa ne pensi del nostro progetto? Penso che sia un progetto utile, soprattutto per artisti emergenti che si vogliono far notare o comunque che vogliono far sentire la propria voce. Uno spazio per chi ancora non è conosciuto, di sicuro. Va bene?